Yamaha Tracer 900 GT, un modello di grande successo la Tracer. Le sue doti principali stanno nella favolosa guidabilità. Facile, maneggevole e potente, ma al tempo estremamente comoda con un'erogazione dolcissima, se non si esagera con la manopola del gas. Straordinaria compagna di viaggi anche in coppia, specialmente per questa versione GT equipaggiata con borse laterali e cupolino comfort. Anno 2018 i chilometri sono soltanto 18.216. Le sue caratteristiche borse laterali originali, foderi forcella color oro, strumentazione TFT, manopole riscaldate, cruise control e sistema quicksheet, gli accessori, tamponi copricarter e ammortizzatore posteriore Hyper Pro. Richiedi un preventivo personalizzato utilizzando i contatti che troverai al termine di questo video. Permute. Ritiriamo in permuta qualsiasi moto, scooter e anche auto. Compriamo moto e scooter con volture e pagamento immediati. Garanzia. Tutte le nostre moto hanno 12 mesi di garanzia legale di conformità. Per quelle non più vecchie di 10 anni è possibile l'estensione fino a 36 mesi. Spedizioni. Effettuiamo spedizioni in tutta Italia, isole comprese, affidando la moto ad un nostro incaricato che provvederà a consegnarla direttamente al tuo domicilio con furgone specializzato nel trasporto moto. Finanziamenti. Tutte le moto possono essere finanziate con o senza conto con tassi agevolati e moltissime formule finanziarie quali minirate o formula buyback con valore futuro garantito. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legrandimarche.it, le nostre pagine social oppure scrivici su whatsapp al numero 392 4400 746.